Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia del Tottenham in versione player, la versione fan l'avevamo già vista e trovate qui sopra la recensione, per la stagione 22-23. Il kit da trasferto del Tottenham 22-23 è stato lanciato introducendo un design vivace e promosso utilizzando lo slogan Dare to do bold. La maglia ha un design moderno ma semplice, combina una base bluastro viola con maniche nere e un logo bianco. Ciò che spicca è il collare Volt. Aya è il main sponsor, mentre Cink è sulla manica sinistra. Entrambi i loghi degli sponsor sono bianchi e si adattano al resto del design. Dal punto di vista del modello, la maglia utilizza il nuovo design Nike 22-23 con il colletto come caratteristica distintiva. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Wow! Questa secondo me è veramente molto bella. In questa versione, nella versione player, questa prende 5 stelle, il massimo. Fatta benissimo, tra l'altro il tessuto della versione player di quest'anno è veramente strepitoso di Nike. Bellissimo! Qui in alto vedete il costo? Che per questa versione, con questa qualità, con questi colori brillanti, con dei tempi di consegna anche molto veloci, questa è arrivata in 12 giorni, quasi incredibile, è veramente bassissimo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per tenere un coupon da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Grazie a tutti!